salutare a nome di tutta l'Assemblea Litorichi di Roma che è venuto con i propri studenti e professori a farci visita. Grazie. Quindi a questo punto al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri la consegna presso la Camera dei Deputati del testo delle comunicazioni che ha appena reso qui al Senato sospendo la seduta di Roma che è venuto con i propri studenti e professori a farci visita. Grazie.